Si contano ancora due decessi e una risalita dei casi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. I decessi corrispondono a un paziente di Gela e un altro ricoverato a Caltanissetta ma proveniente da fuori provincia. Sono 239 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Si alzano i numeri a Caltanissetta, sono 79 nuovi positivi, 54 a Gela, 24 a San Cataldo, 20 a Niscemi. Per ciò che riguarda il ricoveri, sempre nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia, in tutto rispetto ai giorni precedenti, sono 39, quindi qualche numero in meno e il reparto di terapia intensiva è ancora chiuso. Sono 561 i positivi in quarantena domiciliare, 10 i positivi ricoverati in malattie infettive per ciò che riguarda il capoluogo, 612 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, 7 sono i ricoverati. Sono 4 i pazienti positivi ricoverati in ospedale proveniente da altre province. 2359 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.